Hare Krishna. Allora, continuiamo lo studio della Bhagavad Gita, così com'è. Oggi leggeremo il verso numero 33 del secondo capitolo e leggeremo in seguito altri quattro versi. Questo verso lo leggiamo insieme. Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Tata Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Tata Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Atta Chetvam Imam Dharmyam Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Tata Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Atta Chetvam Imam Dharmyam Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Tata Svadharman Kirtimcha Atta Svadharman Kirtimcha Atta Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Atta Chetvam Imam Dharmyam Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Atta Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Atta Chetvam Imam Dharmyam Sangramam Nakhadishasi Sangramam Nakhadishasi Tata Svadharman Kirtimcha Tata Svadharman Kirtimcha Hitvapapam Avapsyasi Hitvapapam Avapsyasi Atta Perciò Chet Se Tvam Tu Imam Questo Dharmyam Dovere Religioso Sangramam Combattimento Combattimento Na Non Karishasi Compirai Tata Allora Svadharman Il Tuo Dovere Religioso Kirtim Reputazione Cia Anche Anche Hitva Perdendo Papam Peccato Avapsyasi Guadagnerai Guadagnerai Traduzione E Spiegazione Di Sua Divina Grazia Bai Charanara Baktivedanta Baktivedanta Svami Sridha Prabhupada Ki Jai Ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia certamente peccherai per aver mancato il tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero Spiegazione Arjuna è un guerriero famoso questa fama se l'è guadagnata combattendo contro potenti esseri celesti tra cui Shiva stesso che si presentò a lui per sfidarlo travestito da cacciatore soddisfatto della lotta e perfino della propria sconfitta Shiva gli offrì l'arma Paschupata Astra tutti conoscono il valore di Arjuna una volta Drona Acharya il suo maestro d'armi lo benedisse e gli regalò un'arma contro cui egli stesso era impotente anche suo padre Indra re dei pianeti celesti lo stima molto tutti questi grandi personaggi e altri ancora possono garantire il suo valore nell'arte marziale se Arjuna si ritira dal combattimento non solo avrà trascurato il suo dovere di Kshatria ma perderà anche la reputazione e si aprirà la strada verso i pianeti infernali non è dunque disertando il campo di battaglia che Arjuna eviterà la degradazione bensì combattendo allora leggiamo anche i versi successivi che sono tutti collegati come tema verso 34 traduzione gli uomini parleranno per sempre della tua infamia e per chi ha conosciuto l'onore il disonore e peggio della morte spiegazione come amico e consigliere di Arjuna Krishna gli dà la sua opinione definitiva su questo rifiuto di combattere Arjuna se abbandoni il campo di battaglia prima ancora che il combattimento cominci sarei accusato di essere un codardo e se eviti il combattimento per aver salva la vita e accetti così di vedere infangato il tuo nome allora ti dico che è meglio morire in battaglia per un uomo rispettato come te il disonore è peggio della morte non scappare per paura di perdere la vita è meglio morire con le armi in pugno salvo dal disonore piuttosto che perdere il tuo prestigio tra gli uomini per non aver saputo beneficiare della mia amicizia verso 35 traduzione i grandi generali che stimarono il tuo nome e la tua fama crederanno che solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un codardo spiegazione il signore il signore continua a dare la sua opinione ad Arjuna credi che questi grandi generali Duryodhana Karna e gli altri penseranno che tu hai abbandonato la lotta solo per compassione verso i tuoi fratelli e tuo nonno penseranno piuttosto che è stato per codardia ecco come sarà distrutta per sempre l'alta stima che hanno di te verso 36 traduzione i tuoi nemici parleranno male di te ed erideranno il tuo coraggio cosa può esserci di più penoso per te spiegazione gli sproposi di Arjuna sulla compassione hanno meravigliato molto il signore che gli ha spiegato perché la falsa pietà non si addice a un aria ora egli ha dimostrato a sufficienza che la compassione di Arjuna per i parenti è irragionevole verso 37 traduzione spiegazione spiegazione anche se la vittoria non è sicura Arjuna deve combattere se dovesse rimanere ucciso nello scontro rinascerebbe su uno dei pianeti celesti come ajnana timirandasya gyananjana shalakaya cakshuram miritam yenata smai shri gurave nama shri chaitanya manobhishtam stahapitam yana bhutale svayam rupakadam madatisvapadantikam vandeham shri guru shri yuta padakamaram shri guru mveshna vamsha shri rupam sagrajata sahagana lalita ragunatandvitam tam sa jivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam krishna chitanya devam shri radha krishna padan sahagana lalita shri vishakam vitamscha he krishna karunasindho dinabandho jagatpate gopeśya gopika kanta radha kanta namostute tapta kanchanagorangir adhe vrindhavaneshvari vrishabhanusute devipranam amihari priye panchakalpatarubyashca kripasindhubyayevacca patitanam pavanebhyo vaisna vebhyo namo namah shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adveita gadadhara shri vasa digoura bhaktavrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare krishna allora rileggiamo i versi in sequenza in italiano ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia certamente peccherai per aver mancato il tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero gli uomini parleranno per sempre della tua infamia e per chi ha conosciuto l'onore il disonore e peggio della morte i grandi generali che stimarano il tuo nome e la tua fama crederanno che solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un codardo i tuoi nemici parleranno male di te ed erideranno il tuo coraggio cosa può esserci di più penoso per te oh figlio di kunti se muori combattendo raggiungerai i pianeti superiori se vinci godrai del regno della terra alzati dunque e combatti con determinazione allora i veda sono i testi che enunciano la conoscenza la parola veda vuol dire proprio vedere conoscere e tra i tanti veda come anche spiegato più volte esce la Prabhupada esiste il danur veda che è la conoscenza dell'arte militare letteralmente danur significa arco quindi l'arte militare così come conosciuta nella civiltà vedica è costituita da combattimenti attuati con arco e frecce soprattutto e vediamo come Arjuna era molto famoso per essere un grandissimo arciere e vediamo che è l'arma principale in tutte le battaglie così come le ascoltiamo dal Mahabharata dal Ramayana l'utilizzo dell'arco quindi danur veda l'arte militare e una volta veniva utilizzato l'arco e le frecce soprattutto come vediamo nel Ramayana ci sono questi combattimenti incredibili tra esseri celesti e demoni esseri celesti deva e rakshasa e venivano utilizzati arco e frecce e come vediamo come ci sono descrizioni così minuziose su come le scimmie per esempio hanno combattuto l'esercito di Ravana utilizzando le frecce neutralizzando con le frecce tutti gli attacchi che provenivano dai demoni e questa è la cultura vedica che spiega come è il modo migliore di combattere quali sono le armi migliori anche più meglio utilizzabili non richiedono grandi risorse arco e frecce ma questi duelli così come avvenivano erano assolutamente leali onesti e infatti Ravana uno dei più grandi demoni come è stato sconfitto con una freccia dritta al cuore da Shri Ramachandala quindi è bastato una freccia per uccidere il più grande dei demoni che metteva paura a tutti gli esseri celesti nell'intero universo e quindi il Danur veda una scienza meravigliosa che spiega come agire nel combattimento e quali sono i mezzi adatti e sappiamo come dicevo prima Arjuna sia stato un grandissimo arciere il più grande degli arcieri infatti è chiamato anche Savvyasacin da Krishna o alla fine l'ultimo verso della Bhagavad Gita detto Yattraparto Danurdhara Danurdhara è Arjuna colui che porta all'arco le frecce quindi Arjuna è conosciuto per il suo valore in battaglia per la sua abilità nel tirare le frecce sappiamo che c'è la storia nel Mahabharata di come Arjuna è riuscito ad accattivarsi le grazie del re Drupada il padre di Drupadi e quindi come in questa cerimonia per la conquista della moglie futura chiamata Svayanvara la cerimonia per ottenere una moglie questa è la cerimonia che fanno gli Kshatria i regnanti per ottenere in sposa una figlia di un re quindi c'era una prova che ha dato il re Drupada per conquistare sua figlia Drupadi di se un Kshatria con l'arco fosse riuscito a centrare l'occhio di un pesce che era appeso al soffitto e che era praticamente dietro un piccolo un cerchio quindi la freccia doveva passare attraverso questo piccolo cerchio e perforare l'occhio di questo pesce attaccato ad un soffitto ma l'Okshatria colui che voleva conquistare la la sposa non poteva vedere direttamente attraverso il il buco l'occhio del pesce ma doveva osservarlo attraverso una pozza d'acqua quindi attraverso uno specchio e quindi chi fosse riuscito a perforare l'occhio di questo pesce avrebbe conquistato la bellissima e celestiale Drupadi e praticamente tutti i più grandi Kshatria dei più grandi regni hanno provato in questa grande impresa per conquistare la bellissima Drupadi ma nessuno è riuscito e quando è arrivato Arjuna in un solo scocco di freccia guardando attraverso la pozza d'acqua è riuscito a perforare dritto il piccolo occhio di questo pesce e quindi Arjuna è riuscito a sposare così Drupadi e sappiamo come Arjuna sia uno dei cinque mariti di Drupadi e quindi l'Okshatria è una figura molto importante nella cultura vedica nel Varnashram e la Bhagavad Gita nell'ultimo capitolo descrive le qualità dell'Okshatria il quarantatresimo verso dice le qualità di un'Okshatria sono l'eroismo in battaglia Teja la potenza la forza l'Okshatria è molto potente quanta strategia ci voglia quanta strategia bisogna mettere in atto per riuscire a vincere l'esercito nemico questa espressione questa espressione vuol dire proprio colui che non si tira mai indietro nel combattimento che non ha paura di tirarsi indietro nel combattimento anche nella situazione più difficile che si può presentare davanti quindi questa è una qualità molto importante dell'Okshatria non ha mai paura di combattere l'avversario e Dhanam Ishvara Bhava l'Okshatria è molto generoso dà molto in carità perché è molto opulento e Ishvara Bhava ha la natura del controllo del controllore quindi gli Kshatria normalmente sono rignanti e quindi queste sono le qualità Kshatram Karma Svabhava Svabhava vuol dire che sono proprio le qualità insite nella sua natura quindi sono le qualità che l'Okshatria mostra naturalmente già dentro di sé e vengono manifestate e quindi l'Okshatria si colloca così nel Varnashram e cerca di adempiere nel migliore dei modi a queste funzioni e sfrutta queste qualità nel migliore dei modi e quindi l'Ikshatria nella cultura vedica venivano educati fin da piccoli nella Gurukula quindi andavano alla scuola del maestro spirituale imparavano tutte le materie imparavano soprattutto il Dharma l'etica la religiosità e il Guru ha questa facoltà di intendere di capire quali sono le qualità intrinseche del suo allievo e si vede che un ragazzo un bambino ha una certa predisposizione nel Shoryam Teja Dritir Daksham quindi mostra queste qualità Dakshatria allora il Guru riesce a collocare il ragazzo fin da piccolo in questo in questo Varna e quindi lo indirizza in una scuola dove si può imparare il Danurveda l'arte di combattere e questo è stato così anche per Arjuna che fin da piccolo mostrava queste qualità è andato a studiare insieme a Dronacharya il grande maestro d'armi che conosciamo che viene citato anche qua da Shira Prabhupada Shira Prabhupada dice che in realtà negli radicali non esistono più Shatria non esistono Shatria esistono solo Shudra e forse qualche Vaish ancora qualche commerciante ma Shatria e tantomeno Brahmana non sono più presenti in queste radicali ma a quel tempo esistevano e come gli Shatria erano molto valorosi così come vediamo Arjuna e come abbiamo letto una spiegazione Dronacharya aveva così tanto affetto verso il suo discepolo verso Arjuna e così tanta fiducia che addirittura gli ha dato un'arma che lo stesso Dronacharya non poteva controbattere che praticamente Dronacharya era impotente di fronte a quest'arma che lui stesso aveva dato ad Arjuna e quindi Dronacharya si fidava ciecamente completamente di Arjuna del suo valore e ovviamente pensava che mai Arjuna sarebbe arrivato a prendere le armi contro di lui o viceversa ma vediamo che per un gioco del destino è successo che Arjuna e Dronacharya si sono trovati nelle due fazioni opposte e quindi vediamo come il Danurveda sia l'arte militare nella cultura vedica sia in realtà un codice di alta moralità un codice etico quindi anche fin da piccoli si impara l'etica nel combattimento a essere leali onesti verso l'avversario a seguire il Dharma e non a combattere a capriccio e nell'ultimo verso che abbiamo letto Krishna dice ad Arjuna se mori combattendo raggiungerei i pianeti superiori se vinci godrai del regno della terra quindi in ambe due i casi sarebbe comunque un successo per Arjuna ed è sempre un successo per uno Kshatra che segue il suo Dharma che che combatta vinca o perda comunque ha protetto ed è sicuro di raggiungere la felicità o in questo mondo godendo di un regno fiorente o in un pianeta celeste ma vediamo che Arjuna è così compassionevole come abbiamo visto altri versi Arjuna non voleva combattere Arjuna non interessava nulla vediamo come nel nei versi del primo capitolo dove Arjuna dava la sua opinione sul fatto di combattere proprio diceva e poi dice Praticamente dice che piacere che piacere potrei trarre da ottenere cioè Kim no raggi in govinda ottenere o govinda se ottengo il regno Kim bogargi vi tenava o ottengo tutti i piaceri che ne derivano che gusto potrei avere dall'ottenere tutta questa opulenza da avere un regno fiorente da avere i piaceri materiali che un regno propone e poi dice anche Api tra i l'occhia raggia sia anche se perfino Api si ottenessi tra i l'occhia tutti i tre mondi anche se raggiungessi i pianeti celesti Capriti se a Genardana o Genardana che piacere che soddisfazione potrei trarre anche dall'ottenere i pianeti celesti quindi Adarjuna non interessava né ottenere un regno l'opulenza in questo mondo materiale quindi come dice in questo verso che uno c'ha tra può godere del regno della terra né raggiungere i pianeti paradisi e ci godere dei piaceri che esistono nei pianeti celestiali e Krishna qua dice che se muori combattendo raggiungerai i pianeti superiori quindi Arjuna non è interessato a nessuna delle due opzioni e quindi Arjuna sceglie di ritirarsi di uscire dalla battaglia è il primo commento che fa Krishna nel secondo capitolo dopo che Arjuna ha esposto tutte le sue tesi Krishna dice proprio dice ti stai lamentando tu e lo sai che lamentandoti non è lamentarsi non è un business di una persona valorosa quale tu dovresti essere e dice Anaria dice Aria è una persona valorosa Anaria non sei un'aria non sei una persona di valore lamentandoti in questo modo e Jushtam Asvargyam Asvargyam dice così non otterrai i pianeti i celesti Asvargyam e Akirtim Karam dice non raggiungerai sarai infamato Akirti vuol dire nessuna gloria anzi diffamia quindi se tu ti comporti così se ti lamenti già dice all'inizio Krishna non otterrai nei pianeti celesti e guadagnerai l'infamia che pena dice praticamente non è degna di una persona valorosa questo comportamento e quindi abbiamo letto fino a qui fino al verso 37 domani leggeremo verso 38 praticamente l'analisi che fa Krishna ad Arjuna praticamente Krishna analizza osserva fa osservare ad Arjuna quello che sta sbagliando quella che è la realtà infatti poi nel verso 39 Krishna dirà ti ho spiegato ora il metodo analitico ora passeremo al metodo dell'azione svolta senza attaccamento ai frutti dell'azione il verso 39 quindi qua praticamente ha esposto ad Arjuna la propria tesi Krishna molto valida e in pratica Krishna dice ad Arjuna di seguire il proprio Dharma lo Svadharma Svadharma Apicaveksha dice prima quindi se se Arjuna fin dall'inizio avesse seguito il suo Dharma non sarebbe incorso nessun peccato ed è quello che dice proprio Krishna se tu combatti e svolgi e segui il tuo Dharma lo Svadharma il Dharma che ti appartiene allora non incorrerai nessun peccato come dice alla fine nella Bhagavad Gita Meglio eseguire il proprio dovere viguna anche in modo imperfetto piuttosto che eseguire il dovere di qualcun altro paradharmat in modo perfetto Krishna dice questo e e dice Tu devi eseguire il tuo dovere prescritto Svabhava che ti appartiene Svabhava che è secondo la tua natura Svabhava vuol dire propria Bhava vuol dire natura e Kurvan Napnotikilbisham Kurvan vuol dire facendo questo Napnotikilbisham non otterrai il peccato non incorrerai nel peccato quindi il miglior modo di non incorrere nel peccato nell'agire e svolgere il proprio dovere il proprio Dharma e questo è ciò che sta su cui sta mettendo molta enfasi Krishna ad Arjuna in una situazione molto difficile difficile psicologicamente per Arjuna ma lo Svadharma che segue una cosiddetta persona di valore un'aria pertiene rientra nel quadro del Varnashram Dharma perché non si può parlare di Svadharma di un Dharma inventato praticamente il Dharma il nostro Dharma ognuno ha un proprio Dharma ognuno ha uno Svadharma qualsiasi persona in questo pianeta dovrebbe avere uno Svadharma ma quindi un dovere per esempio la madre il proprio Dharma è accudire far crescere il figlio il titolare di un'azienda e gestire l'azienda cantante e comporre musica cantare e pubblicare ci sono così tanti Dharma cosiddetti Dharma ma il vero Svadharma non è uno Dharma a capriccio che si inventa ma è un Dharma che rientra proprio nell'ambito del Varnashram Dharma quindi viene assegnato da un maestro spirituale il Dharma nessuno se lo può inventare come dicevamo prima se una persona mostra le caratteristiche di uno Kshatri allora il Guru gli dà la mansione di impegnarsi nell'apprendere l'arte del combattere di diventare un valoroso Kshatri ma se in questo mondo una persona magari diciamo una mamma svolge il suo dovere di mamma in modo perfetto ma non conosce niente della coscienza di Krishna non sa niente della realtà spirituale allora quello non si può definire Dharma il vero Dharma è definibile si può definire da dal maestro spirituale che assegna proprio il compito il dovere di quella persona quindi per esempio un devoto i devoti hanno tanti cosiddetti Dharma occupazioni Dharma vuol dire anche occupazioni quindi il maestro ci assegna un dovere ci assegna un compito da svolgere ci assegna una mansione che noi svolgiamo nel migliore dei modi ma noi cerchiamo di svolgere meglio quella mansione che ci appartiene e non quella di un'altra che non non è nelle nostre corde e non ci è stata assegnata quindi lo Svadharma rientra in questo e anche magari una persona che si avvicina per esempio alla coscienza di Krishna ed è una mamma allora se avvicina la coscienza di Krishna inizia a cantare il mantra inizia a praticare a quel punto se il maestro o la guida o il Sadhu dice a questa devota che è una mamma e dice tu sei una mamma prima facevi benissimo la mamma seguivi il tuo Dharma ma a quel a quel tempo quello non era ovvero Dharma perché era praticamente un Dharma fittizio perché quel Dharma di accudire il bambino farò crescere non era relativo alla conoscenza trascendentale e quindi non portava alcun frutto invece se questo a guida questo maestro ti dice tu stai adesso seguendo la coscienza di Krishna sei una mamma continua a fare la mamma continua a crescere bene il bambino insegnagli i valori spirituali allora quella stessa mansione che prima svolgeva diventa una mansione spirituale diventa proprio uno Svadharma perché è stato assegnato da un Sadhu da un maestro spirituale quindi tutti i doveri che una persona ha rientrano nella categoria del Dharma quando vengono svolti nell'ambito della coscienza di Krishna in ultima analisi perché non c'è nessun altro movimento nessun'altra società che offre la possibilità di seguire realmente il Dharma così come deve essere realmente seguito e quindi questo è quello che è venuto insegnarci misericordiosamente Shri Prabhupada e quindi seguire il Dharma ci fa elevare questa è la potenza del attenersi all'istruzione a seguire il Dharma e a raggiungere alla fine la perfezione ripete due volte il proprio il proprio dovere chi segue il proprio dovere con attenzione l'uomo l'abbate raggiunge la perfezione quindi l'unico modo di raggiungere la perfezione è seguire nel migliore dei modi il proprio Dharma e qua si parla e Krishna parla molto di questo concetto se tu non segui il tuo Dharma e fai di testa tua gli dice praticamente le persone le persone che tu hai conosciuto nella tua vita tutti i grandi combattenti penseranno di te che sei un codardo perché ti vuoi tirare indietro che non vuoi svolgere il tuo dovere che ti appartiene e allora preme molto su questo tasto Krishna e dice non vorrai farti passare per un codardo non vuoi diventare così ingiuriato dalle persone che ti hanno tanto onorato dice maranà ti riccio è peggio la morte è peggiore è peggiore l'infamia che la morte sarebbe meglio morire che essere infamati e quindi un'okshatria è la sua diciamo qualità prediletta quella di essere onorato di essere glorificato perché un'okshatria ha questa natura l'okshatria è influenzato dalla guna della passione sappiamo che nella passione è più facile che nasca l'orgoglio credersi importante potente quindi voler essere rispettati onorati e glorificati vediamo quanto comunque sia importante per un'okshatria non ricevere infamia vediamo così come nel Sri Ramayana la storia di Sri Ramachandra che quando ha ucciso il demone Ravana e Sita Devi che era imprigionata da tempo da Ravana così è stata liberata allora Rama ha detto ai suoi assistenti di portare Sita da Yodhya nel regno di Ayodhya per finalmente rincontrarsi dopo tanto tempo ricongiungersi e così si sono preparati Rama Rama Chandra si è vestito in modo regale così Sita Devi si è si è abbellita e adornata e quando finalmente Sita e Rama che non sono nient'altro che la Dio e la sua energia di piacere si sono finalmente rincontrati si poteva pensare come grande poteva essere l'amore l'estasi dopo così tanta separazione e quando Sita si è avvicinata a Sri Ramachandra Sri Ramachandra era molto freddo e non mostrava molto molta estasi in realtà e e quindi Ramachandra era un po' era un po' freddo e gli ha detto a Sita Devi praticamente la la bandita cioè la come si dice la esiliata di nuovo nella sulle rive del Gange a meditare con i Rishi perché questo perché era corsa voce e un assistente di Sri Ramachandra aveva riferito Badra questo consigliere aveva riferito a Sri Ramachandra che correvano voci ad Ayodhya che Rama Sri Ramachandra aveva riaccettato Sita Devi dopo che era stata in compagnia di un altro uomo di Ravana sappiamo che è stata almeno un anno con Ravana imprigionata da Ravana e si sa nella cultura vedica quando una donna rimane tanto in compagnia una donna sposata rimane tanto in compagnia di un altro uomo o addirittura ha un rapporto con un altro uomo allora viene assolutamente bandita dal marito non può essere viene rigettata non viene più accettata dal marito viene considerata senza senza casta quindi non può più ritornare in un regno quindi la sua vita non ha più motivo di esistere ma sappiamo che Sita era una donna così casta che era così fedele a Sri Ramachandra che mai avrebbe potuto avere avuto qualcosa a che fare con quel brutto Rakshasa di Ravana e quindi in realtà Sri Ramachandra lo sapeva lo sapeva c'è stata anche la prova del fuoco dove Sita non è stata bruciata dal fuoco perché lei aveva detto la verità che non era stata toccata in alcun modo da Ravana però Sri Ramachandra che è l'incarnazione di Dio di Krishna apparso in questo pianeta per dare mostra e dare l'esempio del miglior marito del miglior regnante allora ha rigettato Sita Devi perché voleva praticamente che dar valore al Dharma e quindi che tutti gli abitanti di Ayodhya non avessero a che ridire della scelta di Sri Ramachandra e quindi Ramachandra che era un Okshatra in questa veste era così preoccupato dall'infamia che poteva ricevere diceva io appartengo alla dinastia dell'Ikshvaku e non posso infamare così la mia dinastia in questo modo e quindi vediamo come anche Sri Ramachandra era così attento a non ricevere infamia non ricevere giudizi negativi da parte delle persone del popolo e questa è proprio una caratteristica intrinseca dell'Okshatria ed è anche quella nostra in realtà perché se pensiamo noi nessuno piace essere criticati o infamati è una cosa terribile tante volte anche se noi compiamo un bellissimo servizio in modo perfetto ma non veniamo elogiati non veniamo apprezzati o glorificati per il servizio che abbiamo fatto anche se è stato il miglior servizio che pensiamo di aver fatto non ci sentiamo soddisfatti non ci sentiamo felici perché non ci sentiamo apprezzati e quindi non conta quello che praticamente facciamo ma per tutti praticamente conta ciò che le persone care a noi dicono di noi o quello che è il giudizio degli altri verso di noi è naturale così come dicevo l'altra volta esiste la piramide di Maslow una piramide cosiddetta sociale e ci sono prima elencati quali sono i bisogni primari dell'essere vivente mangiare dormire accoppiarsi poi il secondo stadio quello di difendersi di avere una sicurezza una stabilità e il terzo è quello di essere stimati di essere apprezzati di essere considerati in un gruppo quindi vediamo che è un bisogno è un bisogno che esiste nell'uomo quello di essere amati e apprezzati dalle persone che noi in qualche modo consideriamo valide quindi non conta veramente quello che facciamo ma conta che quello che facciamo soddisfi le persone a noi care così come noi devoti dovremmo compiere il nostro servizio quello che ci viene assegnato soprattutto non compiere servizi che non ci appartengono quindi compiere nel migliore dei modi il servizio che ci appartiene sforzarci avere grande entusiasmo e cercare di farlo servendo i devoti più avanzati il maestro spirituale e quindi in questo modo ricevere proprio le benedizioni del maestro spirituale e dei devoti quindi il nostro vero business è quello di agire per soddisfare i devoti e sono proprio le benedizioni che ci danno la forza e la carica e l'entusiasmo di continuare ad agire in coscienza di Krishna anche se noi compissimo il nostro dovere in modo perfetto ma non riceviamo alcuna benedizione da Vaishnava allora quel servizio in realtà non ha un gran valore perché non viene considerato da Vaishnava e quello che noi dovremmo fare è proprio quello cercare di soddisfare i devoti come dice la Chaitanya Charita Amrita riferita a Haridas Pandit dice Vaishnavera non guardare i difetti e Kaya Mano Vakhe Kare Vaishnava Santosha e con la mente con le parole con le azioni Vaishnava Santosha o soddisfare i Vaishnava Santosha vuol dire proprio cercare di soddisfare i Vaishnava questo è quello che dovrebbe fare un devoto non guardare i difetti in un devoto che ha dedicato la sua vita come dice la prima fesa al canto e la diffusione dei santi nomi del Signore quindi che si impegna a servire i santi nomi del Signore a servire nella coscienza di Krishna in modo serio e onesto non guardare i difetti guardare solo le qualità anche avesse una qualità che canta Hare Krishna è meraviglioso quindi ha già una grandissima qualità e con tutte le nostre azioni le nostre parole i nostri pensieri cercare di soddisfare i devoti è come diceva Goranga Prabhu Aparada che vuol dire offesa vuol dire Aparada Rada vuol dire soddisfazione Apar che non dà soddisfazione quindi l'offesa vuol dire ciò che non dà soddisfazione a un devoto in ultima analisi è quello e quindi questa è la è il nostro come devoti è il nostro è il nostro traguardo riuscire a soddisfare i devoti e soddisfare così in ultima analisi Krishna e soddisfare il maestro spirituale Yasya Prasada Bhagavat Prasada e soddisfare così Dio Krishna è quello che noi stiamo cercando di fare entrando nella coscienza di Krishna riuscire ad accattivarci le grazie del Signore e sarebbe ed è la cosa più meravigliosa che possiamo avere avere un contatto diretto con Dio e quindi una volta un devoto e una coppia di devoti a Manhattan facevano un servizio di cucina il loro servizio era cucinare e doveva arrivare Shri La Prabhupada a Manhattan a New York e a questi devoti soprattutto la moglie marito e moglie la moglie era stato affidato il servizio di cucire un vestito per Tulasi per il Tulasi Devi di Shri La Prabhupada ma non era molto capace di cucire questa devota però gli è stato assegnato questo compito e allora voleva cercare di soddisfare sia i devoti ma soprattutto Shri La Prabhupada fare il vestito a Tulasi Devi di Shri La Prabhupada e allora questa devota con molta bramusia di soddisfare e con molta tenacia per tutta la notte rimasta a cimentarsi nel cucire il vestito a Tulasi Devi tutta la notte e arriva il mattino che è pronto e va per a metterla a Tulasi Devi e prima ci sono i devoti del tempio che vedono il servizio svolto vedono questo vestito e un devoto dice ma questo vestito è terribile ma non è in alcun senso come hai fatto a fare una cosa così detestabile l'ha criticata così pesantemente tant'è che lei si è messa completamente a piangere e il marito è rimasto veramente così afflitto di sentire una critica così pesante perché sapeva quanto la moglie ci ha messo il cuore la determinazione per fare questo vestito con così tanto amore e comunque si ha ha messo ha indossato il vestito a Tulasi Devi è arrivato a uscire la Prabhupada nella stanza e la prima cosa che ha detto vedendo Tulasi Devi ha detto wow è un vestito meraviglioso bellissimo e questa devota ha di nuovo pianto ma stavolta pianto per la gioia perché è riuscita a accattivarsi la 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 grazia le grazie di Srila Prabhupada le benedizioni di Srila Prabhupada che sono quelle che veramente poi contano le sue benedizioni noi possiamo avanzare in coscienza di Krishna solo quando riusciamo realmente a soddisfare Srila Prabhupada e a soddisfare tutti i suoi servitori che in questo movimento cercano con così tanta determinazione di soddisfarlo di servirlo tutti i giorni anche dopo decenni e quindi questa è la nostra pratica cercare di compiere il nostro servizio come dice qui Krishna Darjuna tasma uttisna konteya alzati yuddaya kritanish e combatti con determinazione senza alcuna incertezza quindi noi noi dobbiamo essere sicuri e determinati a svolgere il nostro servizio e a combattere come stiamo leggendo adesso il capitolo canta Hare Krishna e lotta noi dobbiamo lottare e allo stesso tempo cantare Hare Krishna e servire i devoti in messo spirituale così riusciremo sicuramente anche all'ultimo istante della vita a ottenere il successo più alto dell'esistenza questa è la meraviglia della coscienza di Krishna Jai grazie mille dell'attenzione so se c'è una domanda o un commento giusto uno sono le sette e mezzo Jai grazie mille dell'attenzione Grantharaj Srimat Bhagavad Gita Jai Shredha Prabhupada Jai